Il laboratorio per l'involucro edilizio dell'Eurac consente di caratterizzare dal punto di vista termico ed energetico componenti e sistemi di involucro come serramenti, pareti opache e sistemi di facciata. Il provino da testare viene posizionato in un calorimetro composto da due camere che emulano l'ambiente interno da una parte e l'ambiente esterno dall'altra. I parametri che vengono misurati sono ad esempio la trasmittanza termica, la capacità termica e la produzione energetica di sistemi solari attivi. I test possono essere realizzati sia in condizioni stazionarie sia in condizioni transitorie per avvicinarsi il più possibile alle reali condizioni di utilizzo del provino. Il calorimetro è in grado di controllare valori estremi di temperatura, umidità e velocità dell'aria e anche l'irraggiamento. È stato realizzato in conformità alla ISO 8990 ed è in grado di ospitare provini di dimensioni massime di 3 metri per 3 metri e spessore massimo 50 centimetri. Per ampliare le possibilità di test, il calorimetro è stato progettato e realizzato con due componenti ausiliari che sono un sole artificiale a luce continua e un circuito idraulico. Questi componenti possono essere utilizzati per la caratterizzazione di sistemi di involucro che integrano pannelli fotovoltaici, collettori solari ed elementi radianti. Il laboratorio permette anche di misurare il valore G, ovvero la capacità di componenti trasparenti e semitrasparenti di controllare la radiazione solare. La misura può essere effettuata a diversi angoli di incidenza. Questa misura, che al momento non ha uno standard di riferimento, viene effettuata con un altro sole artificiale a luce continua e consiste nel misurare l'energia incidente e l'energia trasmessa verso l'ambiente interno. Grazie alla flessibilità del laboratorio siamo in grado di progettare campagne ad hoc per soddisfare le esigenze di committenti sia in termini di sviluppo sia di verifica prestazionale di prodotti innovativi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.